Un trend in continua diminuzione che fa ben sperare anche se occorre sempre mantenere alta l'attenzione. E' quel dato per comune. Acate 78, Chiaramonte 34, Comiso 258, Giaratana 18, Ispica 32, Modica 229, Monte Rosso Almo 19, Pozzallo 95, Ragusa 386, Santa Croce 22, Scicli 72 e Vittoria 470. 11 da fuori provincia. Vittoria potrebbe presto diventare zona gialla. Per ora resta solo un'ipotesi ma presto il comune Ipparino saprà la decisione finale che si attende da parte del governo al lavoro sulla bozza del nuovo DPCM natalizio. In nottate il testo è stato inviato ai presidenti delle regioni e nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Intanto sono tante le buone speranze che non ci sia una proroga del rosso. C'è abbastanza ottimismo, un ottimismo dovuto ai numeri sanitari che risultano migliori rispetto a un mese fa. Nonostante ieri ci siano stati quattro morti in provincia, la curva epidemiologica è comunque scesa, tanto da convincere la direzione di prevenzione dell'ASP a redigere una relazione positiva per il presidente Musumeci, a cui aspetta il compito più arduo. Vittoria è la città dove si stanno effettuando più screening in questi giorni. I positivi attualmente sono 500, circa 100 in più di quelli di Ragusa. Intanto da questa mattina prosegue, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri, il lavoro sulla bozza del nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani. Divieto di uscire dal proprio comune a Natale e Capodanno, ma con possibilità di andare per pranto a ristorante. No ai ricongiungimenti con parenti o viaggi verso seconde case fuori regione. È confermato il sistema in tre fasce, con coprifuoco in tutta Italia alle 22 e ristoranti chiusi in zona gialla alle 18. Poi nei 20 giorni tra Natale e l'Epifania, nessun ammorbidimento, anzi i blocchi cresceranno, le misure si faranno ovunque più rigide. Il nuovo decreto di due soli articoli serve a dare copertura proprio alla stretta natalizia. Dal 21 dicembre non ci si potrà spostare tra regioni e provincia autonome se non per lavoro, salute e situazioni di necessità, oltre che per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione. È proprio sull'interpretazione di queste eccezioni, in particolare le situazioni di necessità, che si dibatterà ancora nelle prossime ore con le regioni.